Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno e il giorno per la... Cotidianità. Professor Savonardo, analizza per lei. Intanto, professor Savonardo, lei mi ha fatto arrivare un vinile. Che cos'è questo vinile? Lo dice lei? Sì, in realtà il vinile Beat Generation è un disco che parte da una riflessione sulla generazione dei sempre connessi. Ma canta lei, professor Savonardo? Canto io con auspiti, con Edoardo Bennato, con l'Alma Megretta. Quindi lei fa anche il cantante, perfetto, ma parliamo di Analisa. Bene, allora Analisa in realtà appunto appartiene proprio a quella Beat Generation di cui parlo in questo vinile, perché è una giovanissima nativa digitale che in qualche modo si nutre di tutti i linguaggi della contemporaneità. Poi parte dal jazz, dal rock e arriva ad essere una icona pop. In ogni caso, per esempio, l'idea che da un lato sembri una ragazza della porta accanto e poi invece nelle sue varie trasformazioni in qualche modo assume questo anche approccio sensuale, seducente. Pensiamo a Mon Amour che tra l'altro richiama il pensiero stupendo di Patti Bravo da un punto di vista del concetto della fluidità. Ed ecco, le nuove generazioni che si raccontano e raccontano anche questo rapporto con la sessualità. Questa canzone richiama questa fluidità che in qualche modo è caratterizzante delle nuove generazioni. Ed è di grande successo, non solo perché è un tormentone perché è orecchiabile, ma perché lei riesce in qualche modo ad incarnare la sua generazione attraverso le sue canzoni. Come grande interprete e cantautrice e con anche la sua modalità di approcciarsi con le trasformazioni del suo look al mondo che le circonda. Quindi è veramente molto interessante. Professor Savonardo, il suo telegramma per Annalisa. Sì, la sua straordinaria capacità vocale, il suo talento secondo me può dare veramente nell'evoluzione che Annalisa vivrà nella musica italiana un contributo importante alla popular music italiana e internazionale. Quindi la invito a sperimentarsi, a innovare i suoi linguaggi e a fare della sperimentazione in diversi ambiti di genere e di musica quella, diciamo, evoluzione che è necessaria per un artista. L'artista deve nutrirsi di nuovi suoni, di nuove emozioni. Lei mi sembra che con la sua capacità di trasformarsi sia in grado di evolversi in questo senso. Quindi qual è il telegramma? Di continuare a fare buona musica innovando se stessa.